Siamo con Massimo Manfredi, vincitore nella categoria Futurity Femmine. Le emozioni? Le emozioni sono tante. È sempre emozionante vincere. Piaccio a tutti e quindi piace anche a me. Come si chiama questo capolavoro della natura? Lei si chiama My Who's That Girl. È una figlia di Lady Prue, che è una figlia di Padron's Image per musica di Loris. E il papà è Shanghai, che ha vinto tutto. Insomma, super campione. E quindi siamo tutti contenti. Buon sangue, non mente. Eh no, 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 perché proprio tutta la linea, il nonno, insomma tutti, tutti vanno, una linea ottima per me, insomma. Volevo ringraziare anche il signor Surroca, che è il proprietario dello stallone, Shanghai. Niente, insomma, bisogna riconoscere i meriti alle persone, fa piacere. E quindi è un amico il signor Surroca. Congratulazioni per questo successo, siamo all'inizio di una carriera del tutto promettente. Speriamo, speriamo. Ne abbiamo bisogno. E forza con l'allevamento con i cavalli arabi.